Allora, loro hanno già finito il loro impegno, Battistoni Nicolò e Sascha Innocenti dell'Accademy Tau. Allora, come è andata Sascha? È stata una giornata, mi sembra, molto carina. Bellissima, bellissima, all'insegno del divertimento per i ragazzi, una bellissima organizzazione, una bella giornata di festa, i ragazzi si sono divertiti, continua il percorso di crescita di questi ragazzi e siamo contenti, siamo contenti. Mi sembra, Nicolò, che a tutto si è pensato oggi, meno che all'aspetto risultati. Mi sembra che, diciamo, ma non perché non è bello vincere, però è bello il clima che si è trasmesso. È l'ultimo torneo dell'anno, insomma, per noi era una giornata anche per fare un'altra partita. Prima noi andremo a fare un torneo fuori, ma era così, tanto per stare con i ragazzi. È una giornata che serviva più che altro per divertirsi e per passare una giornata anziana. Bravo, bravo. E lo scopo mi sembra che è stato assolutamente giusto. Poi i ragazzi quando giocano si divertono. Poi da qui il risultato, almeno che la nostra società, è assolutamente un'influenza. Quindi quando vedi i genitori contenti, c'è stato l'intervallo del pranzo, tra la mattina e le cose. Quindi ragazzi, mi sembra che anche a livello di qualità di cibo, ottima. Ma è vero, tutto molto bene. Poi erano la prima volta, quindi è giusto anche che... Gli spazi erano grandi, insomma, siamo stati grandi. Magari ora vi sta ricominciando a piovere. E' tato, è tato. Però giornata bella. Bella giornata. Grazie, grazie a voi di essere intervisti.